c17 uccide il dottor gelo e c16 si risveglia il dottor gelo riesce a sfuggire protagonisti e attiva c17 e c18 rivelando che lui si è trasformato in un cyborg per avere vita eterna mentre c17 e c18 erano difettosi e che erano stati usati per funzionare con energia infinita dopo un dialogo con c20 c17 riesce a sottrarre il telecomando e lo distrugge per evitare di essere controllato dopo una lite c17 uccide il dottor gelo e c16 viene riattivato anche se il dottor gelo ha detto che è un cyborg che non funziona bene che potrebbe essere pericoloso per l'intero pianeta e che è stato programmato con lo scopo di eliminare goku e che è stato grasso ecco 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 Grazie.